Continuiamo a parlare delle terzine e andiamo a verificare l'effetto ritmico e sonoro di queste divisioni anche in accompagnamento. Ecco un esempio con i ritmi A e B. Ora confronterò in accompagnamento gli ottavi con le terzine di ottavi, gli ottavi con le sestine e ancora i sedicesimi con le sestine. A questo punto devi inserire questi nuovi accompagnamenti in brani che siano pensati in questo modo, quindi con divisioni in tre. Ce ne sono tantissimi. In ogni caso affronteremo in maniera molto più analitica l'argomento sulle divisioni ternarie più avanti quando parleremo della differenza tra i tempi semplici e i tempi composti. Proseguirai ora lo studio analizzando un riepilogo di tutte le divisioni che hai studiato sin ad ora. Per ognuna di queste eseguirai lanci brevi o lunghi e dovrai sperimentare con le sonorità possibili del tuo set di batteria. In particolare poi ti soffermerai su quelle figure che usi raramente o che non usi mai. L'obiettivo è quello di fermarsi un attimino e cercare di capire se il tuo linguaggio ritmico sulla batteria è davvero completo, cercando di evitare quello che accade a molti batteristi, cioè di suonare sempre le stesse figure, sempre nello stesso modo. Ora farò un esempio applicando in modo creativo delle sestine. Grazie a tutti. Quindi dopo che avrai verificato una serie di possibilità sonore con ogni singola divisione dovrai alternarle tra loro in modo creativo. Verranno fuori tante combinazioni diverse e alcune di queste ti sembreranno più belle, altre meno belle e andranno a personalizzare magari il tuo suono e il tuo stile. Buon divertimento.